È un'iniziativa senza precedenti, Alessi è abituata alle sfide, anche questa volta non si smentisce, anche se le sfide non sono solo di carattere industriale ma anche sociale. La scelta è ancora una volta sua o meglio perché in fondo questa azienda, questa famiglia, si è sempre caratterizzata per il suo impegno per il territorio. Questa volta in maniera piuttosto originale, dottor Alessi. Ma sì, è un'iniziativa un po' fuori dagli schemi. Da domani fino a metà novembre, 300 delle nostre persone che hanno aderito volontariamente al progetto andranno a turno a fare dei servizi di utilità sociale per il comune. Ma come è nata questa idea? È nata un po' in famiglia, un po' tra lei e un po' tra la sua figlia che si occupa già di progetti sociali sul territorio. Sì, mia figlia si occupa di progetti nel sociale full time. Lei ha fondato una società che si chiama Good Point a Milano che si occupa esattamente di questo, di assistere le aziende nelle iniziative che intendono fare per il sociale. Quindi lei fa questo. E io, insomma, sentendo dei tipi di intervento che aveva fatto nel tempo, chiaramente questi mi sono rimasti in testa, quando si sono presentate le condizioni non facili da trovare, cioè che l'azienda ha dei buoni risultati ma sta vivendo un momento di flessione, di domanda del mercato. Ma tutte le due componenti ci devono essere, altrimenti il progetto non si può fare, mi è venuta questa idea. Quali sono i problemi che sono connessi a un progetto così? Perché detta in questo modo sembra semplice, le operai invece di stare in fabbrica per alcune ore vanno fuori. Però sappiamo che la cosa è un pochettino più complicata, anche sotto l'aspetto, vogliamo dire, puramente assicurativo. Sì, sì, non li chiamerei problemi, però qualche difficoltà o nodo da sciogliere c'è. Naturalmente dal punto di vista organizzativo è estremamente complesso. Noi abbiamo da un lato i bisogni del comune, dall'altro le disponibilità delle persone da incrociare e poi abbiamo un'azienda anche da mandare avanti, quindi abbiamo dovuto mettere insieme tanti ordini di esigenze diverse. Dal punto di vista anche assicurativo, naturalmente le persone vanno fuori in orario di lavoro, quindi abbiamo dovuto sentire l'INA e l'INA stessa non sapeva bene come gestire la cosa perché non gli era mai capitata. Stiamo cercando però di adempiere tutto per fare tutto in massima sicurezza. L'azienda avrebbe potuto fare come hanno fatto tutti in Italia, fino a questo momento andare in cassa integrazione per un mese, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire, invece è stata scelta questa strada che è anche la più difficile, mi sembra di capire. Sì, certo, avrebbe potuto fare altre scelte che magari il sindacato gli era anche più semplice dire di sì, però comunque è stata una scelta consapevole della situazione.